In questa puntata, PNRR PNRR, approvate mozioni presentate da PD e Lega Trasporti, modifica dello Statuto Toscana Aeroporti S.P.A. Selvicoltura, semplificazione nel regime degli interventi Olivicoltura, tutelare la produzione tradizionale Eventi, San Casciano dei Bagni riapre la sua terrazza PNRR, approvate mozioni presentate dal PD e Lega Gli atti di indirizzo e emendati nel corso del dibattito Impegnano la Giunta regionale a coinvolgere il Consiglio Nel processo delle decisioni Ma io direi che l'importante è l'anticipazione dei 25 miliardi La possibilità quindi di vedere partire subito progetti Che chiaramente i primi sono quelli a cui ha dato a livello di priorità Il governo e sarà un po' il governo a sceglierlo Spesso viene considerato il PNRR come qualcosa da dividere per 20 Per le 20 regioni, nulla di più sbagliato L'approccio con cui l'autorevolezza del Presidente Draghi si è rivolto all'Europa È l'autorevolezza di un Capo di Stato che naturalmente avrà tutta l'applicazione Nell'indirizzare per il meglio quello che sarà già la prima anticipazione E quindi i primi progetti Quindi va vissuto in chiave nazionale E in chiave nazionale l'importante è che la Presidenza del Consiglio Scelga subito i progetti giusti per essere credibili con l'Europa E questo significa progetti cantierabili da subito Perché siano completati entro il 2026 Poi di riflesso ogni regione avrà il suo vantaggio Perché è un volano che fa ripartire l'economia E noi siamo lì pronti e attenti Naturalmente nel contesto di questo indirizzo nazionale Che è prerogativa del Capo di Governo E su cui è impostato il rapporto con l'Europa attraverso il PNR Sì, è una discussione importante A me fa piacere che l'Aula abbia accolto La proposta che ho sottoposto alle altre forze politiche Perché ovviamente la progettualità possa nascere dal basso Possa essere un progetto e progetti condivisi da soggetti pubblici e privati Ma una coprogettualità che faccia partecipi Dalla regione toscana delle esigenze dei territori Al cospetto anche ovviamente di una politica nazionale Che sarà quella che poi alla fine definirà le progettualità finale Tempi ed esecuzioni Quindi una discussione che entra nel merito Ma la notizia importante è che oggi l'Italia ha approvato il proprio progetto Questo non era scontato se solamente tre mesi fa avessimo avuto un altro governo Il cambio di governo, il Presidente Draghi ha dato l'opportunità all'Italia di essere autorevole Noi abbiamo 190 miliardi da gestire nei prossimi anni E questo è anche merito ovviamente del Presidente Draghi Ma in particolar modo anche l'Italia Viva Che con l'operazione politica che ha attuato inizialmente magari non compresa Oggi rende tutto questo possibile Una proposta che sia coerente con le missioni che indica l'Europa Quindi quella della transizione verso un'economia più ecologica Del superamento delle differenze tra territori e tra genere Di uno sviluppo sostenibile, di una maggiore coesione sociale Ecco, per far questo occorre che la Regione svolga una cabina di regia Importante nei confronti dei territori Di quella che sarà la capacità progettuale dei comuni, delle province I suggerimenti che verranno dalle imprese E crediamo che se ci sarà un board di alto profilo In grado anche di dare suggerimenti rispetto alla coerenza E alle priorità per raggiungere questi obiettivi Noi riusciremo meglio a cogliere queste opportunità Di queste risorse che arriveranno e che sono fondamentali Non soltanto per la ripartenza dopo la pandemia Che ha ovviamente acuito le criticità Ma anche per rilanciare un sistema economico Un sistema sociale Quello toscano che sicuramente può avere nella Regione Un punto di riferimento importante per la sua ripartenza Trasporti Modifica Statuto Toscana Aeroporti S.P.A. Mozione rinviata in commissione L'atto di indirizzo è stato presentato dai consiglieri di Fratelli d'Italia Diego Petrucci e Francesco Torselli Nelle settimane scorse Toscana Aeroporti ha votato una modifica statutaria Che diminuisce sensibilmente il peso specifico e la rappresentanza dei soci pubblici All'interno del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti Per l'appunto Che voglio ricordare è una società che gestisce un'infrastruttura strategica fondamentale Di proprietà pubblica Ovvero l'Aeroporti della Toscana Ecco, noi ci saremmo aspettati Avremmo ritenuto normale, scontato Che anche la Regione Toscana Al pari degli altri soci pubblici Comune di Pisa, le Camere di Commercio di Pisa e Firenze Avrebbe votato contro a questa modifica statutaria Che di fatto diminuisce appunto la rappresentanza pubblica All'interno dell'organo di governo della società Non solo Una modifica statutaria che avviene Nel momento in cui Toscana Aeroporti chiede E la Regione Toscana dà 10 milioni di euro Fossi stato io il rappresentante della Regione Toscana Fossi stato io il governatore Anche per questo motivo Sarei saltato in piedi sul tavolino Di quel Consiglio di Amministrazione E avrei urlato la contrarietà A quel provvedimento Che indebolisce la presenza dei soci pubblici Dentro Toscana Aeroporti Non solo La Regione Toscana Si è astenuta rispetto a questo provvedimento Quindi noi oggi abbiamo presentato una mozione Dove stigmatizziamo questo atteggiamento E abbiamo impegnato La Commissione di Controllo Della Regione Toscana A intervenire su quanto è accaduto E a rivendicare la centralità della politica La centralità della Regione Toscana Anche nella governance E nel governo Di una società così strategica E così centrale Come Toscana Aeroporti Svolta nella selvicoltura in Toscana Con una proposta di legge al Parlamento Il Consiglio regionale Chiarisce il regime degli interventi Ricordo che il 9 di dicembre L'Aula del Consiglio regionale Approvò due mozioni Una del gruppo della Lega Un'altra del gruppo del Partito Democratico Sostanzialmente con contenuto a fine Cosa si voleva? Si voleva che si riducessi i tempi E i contenuti della burocrazia Che grava anche sulle aziende boschive Occorre tenere presente Che nelle aree di notevole interesse paesaggistico A seguito della sentenza del Consiglio di Stato Occorre anche l'autorizzazione E la sovrintendenza dei beni culturali Guardate, quello che è veramente nuoce Nuoce alla economia toscana È l'eccesso di burocrazia Noi oggi chiediamo Al Parlamento Di agire Di agire per far sì che Queste aziende Non siano più penalizzate Non debbano sottostare A questa autorizzazione Ci sono già le dovute autorizzazioni Che cosa succede? Danni e pericoli Da un punto di vista idrogeologico Danni e pericoli Da un punto di vista di incendio Ci sono in questo momento Decine di migliaia Per non dire di più Di piante in terra Che sono cadute quest'anno sotto la neve E nessuno pensa a raccattarle Creano un rischio idrogeologico Creano un rischio incendio Ecco, in tutto questo Gli ultimi custodi della montagna Gli ultimi baluardi Che cercano di Costudire il bosco e la montagna Sono i boscaioli Alleggerire il carico di burocrazia Che grava sulle spalle Di queste società Di queste imprese Di questi uomini Che fanno a volte anche di queste donne Perché ci sono anche delle donne Che fanno questo lavoro durissimo Penso che sia una battaglia di giustizia Quindi Fratelli d'Italia Ha convintamente votato a favore Di questa richiesta Che il Consiglio regionale fa Al Parlamento italiano Con questa legge al Parlamento Noi proviamo a chiedere Che vengano trattati Alla stessa stregua Due elementi Due boschi Che poi alla fine sono gli stessi Spesso per tagliare un bosco Ci sono dei tempi Anzi quasi semplici Ci sono dei tempi C'è una finestra In cui bisogna intervenire E alleggerire la burocrazia In questi particolari Appezzamenti Ex articolo 136 Vuol dire consentire Di arrivare Nei tempi corretti Per consentire Il taglio di un bosco Sempre nella legittimità E con tutte le autorizzazioni necessarie Però fa parte Dell'economia Della Toscana Fa parte Dell'economia Della montagna Fa parte Della cura Di un territorio Spesso in zone Che vengono lasciate a se stesse E anche disabitate Quindi vuol dire Avere a cuore Un'economia Di quella Toscana Interna Che può mantenere E fare anche Agricoltura In un luogo Che è sicuramente Più lontano Dalle periferie E per questo Ha bisogno Secondo me Di avere Non dico Un'opportunità in più Ma le stesse opportunità Di altri territori Sono state date Le giustificazioni Più svariate Che riguardavano L'agricoltura L'interesse Io ho visto soltanto Prevalere Un aspetto Economicistico Soprattutto Declinato in maniera Molto disorganizzata E soprattutto Che non va certamente A tutelare Nella filiera del legno E negli agricoltori Come loro vanno dicendo Parlo della maggioranza Ma che semplicemente Andava in un'ottica Di togliere Delle regole Di non tutelare E che adesso Vorrebbero estendere A tutto il territorio nazionale Scriveremo una lettera Per questo Al governo E lo segneremo A tutti i nostri parlamentari Che considerano I boschi E le foreste Che sono tutelati Dal Mibact Per il paesaggio E per il loro valore ambientale E diremo loro Che il Partito Democratico Ma il resto della maggioranza Vogliono togliere Le ultime regole Che ci permettono Di tutelare Questi che sono Beni comuni Prima ancora Che beni economici Cioè Nel rispetto Di quello che facevano I monaci Camaldolesi O della Verna Di quello che facevano I contadini Nella storia E nei secoli Che hanno portato Ad avere Il nostro Terreno agricolo Così Importante E bello Anche dal punto di vista Paesaggistico Con coltivazioni varie Ma anche con La coltivazione Colturale Del bosco Noi pensiamo Che su quella strada Possiamo rispettare Il bosco Il bosco stesso Ma possiamo Anche rispettare Il lavoro Duro Faticoso Di chi vive In montagna E magari Di chi dal bosco Trarre Anche Una piccola Economia L'assessore Stefano Ciuffo Ha risposto Ad una interrogazione Del consigliere Andrea Ulmi Della Lega Con la quale Chiedeva All'Aggiunta Di farsi portavoce Presso il Ministero Delle politiche Agricole Alimentari E forestali Affinché Venga prevista Una forma Di tutela Dell'olio Toscano Ottenuto Da un sistema Di produzione Tradizionale Sì Allora Praticamente Voi dovete Capire Che la Toscana È Alleggia Del romanticismo Quando si parla Di Toscana Quindi Non c'è Soltanto Una questione Di attività Produttive Ma anche Di ambiente E di Immagine Per cui L'olivo È uno Dei simboli Della Toscana Consideriamo Che un olivo Ovviamente Ci ha 10 metri Quadrati Intorno A se Stesso Nella Situazione Di un'agricoltura Intensiva Sugli olivi Si tratterebbe Di fare Dei filari Di viti Appunto Come i filari Di viti Quindi Sarebbe Assolutamente Stravolto Quello Che è il panorama Ora Noi Non vogliamo Dire Che Assolutamente Questa Questione Siamo Contrari Però Dobbiamo Stare Molto Attenti Per due Motivi Uno Perché L'olio Toscano È rinomato In tutto il mondo E quindi Dobbiamo Stare attenti A non In qualche modo Imbastardirlo E in secondo luogo Perché è fondamentale Mantenere Un paesaggio Che ricalca Se stesso In tutto il mondo Riapre sabato 3 luglio Alle 18.30 La terrazza Di San Casciano Dei Bagni A Siena 15 appuntamenti Tutti A ingresso Libero E su prenotazione Organizzati anche Grazie al sostegno Del comune E al contributo Del consiglio regionale Della Toscana Quest'anno Infatti Avremo Tematiche Affronteremo Tematiche Molto diverse Ma contemporanee Come Le frodi telematiche Il problema Dei big data E Diciamo anche Dei bitcoin Di tutta La situazione Che si sta verificando A livello globale Affronteremo Il tema Del post pandemia Con il professor Romano Prodi Che verrà intervistato Da Dario Di Vico Avremo Parleremo Di cinema Con Isabella Ferrari E con Marco D'Amore Due attori Diciamo iconici Sul panorama nazionale E Avremo molti altri Incontri Anche presentazioni Di libri E poi Avremo Anche una superstar Di questo anno sportivo Che è Maxi Rena Lo skipper di Luna Rossa Che ha portato Grande successo Dell'Italia Alla finale Dell'America Skappa Quindi ci racconterà Un po' Il dietro le quinte Di questo grande evento Ma è un territorio Bellissimo Che sa unire La bellezza Paesaggistica Anche ad un cartellone Culturale Di altissimo livello Consentitemi di ringraziare La sindaca Di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti Per l'opportunità Che ci ha dato Noi abbiamo l'idea Di una Toscana Diffusa Che abbia la capacità Di saper valorizzare Le eccellenze Che ci sono Sui nostri territori L'appuntamento Della terrazza È esattamente questo Riuscire a dare Un messaggio Di speranza A un'Italia Che vuole ripartire A una Toscana Che vuole ripartire Fatta di Tanti incontri Molto differenti Tra loro Ma tutti Con un profilo Di altissimo livello Musica 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 Grazie a tutti.